Detto, fatto! Filippo mi ha raggiunto a Milano per spiegarci come rendere veloce, digitale e immediatamente condivisibile il rilievo. Ciao Silvia! Ciao Andrea! Come va? Ti presento Filippo! Molto piacere! Mi ha proposto questo nuovo modo di fare un rilievo. Sono molto curiosa! Eccoci qua! Comandi tutto da un'applicazione gratuita. Lui è già posizionato, non devi fare altro che schiacciare play. E lui fa la tua scansione. 3.200 punti in meno di 25 secondi. Ma questo rilievo lo possiamo fare anche all'aperto, come qui sul terrazzo? Certamente! Funziona molto bene anche in esterno. Bene Andrea, ora che abbiamo rilevato tutto l'appartamento, trasferiamo i file a PC, così li possiamo lavorare a CAD. Sei contenta! Felicissima! Hai visto Silvia che trovo sempre il modo per sorprenderti? Sì davvero, mi è veramente sorpresa questa volta. Sicuramente avremo modo di fare più rilievi anche tutti i giorni! Più volte al giorno! Grazie Filippo! È stato un piacere, grazie a voi!